Questo gioco è stato sviluppato da un dodicenne Non ci posso credere raga Buona a tutti ragazzi, bentornati dal vostro Edobone Sono qua su Weeping Soul, suggerito da Godzilla 1Tube, Godzilla 1Tube, come volete voi Voglio accreditare Snafki per avermi suggerito Fractal Space Perché prima di passare a questo gioco stavo registrando il suo Ma sfortunatamente ho avuto problemi di editing Quindi credo anche Snafki per il suggerimento Peccato che non ho portato a portare il suo gioco Iniziamo a giocare Buongiorno Che carina questa pianta che attraversa il mobile Salve Non mi piacciono questi suoni ragazzi Comunque ho preso un gattino, che cos'è sto coso? Che già ho visto chi? No, 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 oddio, oddio, chi sei? Forse se ne va, forse se ne va Accidenti raga, ma mi ha subito perso di vista Via Questa è bloccata, ovviamente, vai a quel paese No, 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 no L'allero, l'allero Oh, quanto sei brutta Tenete Te lo regalo, te lo regalo Posso vedere chi sei? Aspetta Ma chi sei? Tipo l'omino del Roblox Se mi abbassassi vado qua sotto Dentro, dentro, dentro Alla dentro, dentro Non mi ha visto, non è partita la musica quindi non mi ha visto Ma raga ma pure da basso sono un missile, veramente Ma dove stavi? Tua madre No, non mi avrai, non mi avrai Mi sembra ci sia qualcosa, un oggetto, non lo so No, è soltanto un elemento luminoso random Non è nient'altro Dov'è, 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 non la vedo Non la vedo, comunque a me stanno a bene i brividi E a volte non so esprimermi E ti vorrei amare ma sbaglio sempre E ti regalo sto coso che non ti fa niente E pagherei per andar via E tua madre che è pazza alla follia Regà bellissimo comunque Che sta a fa' i bisogni? Voglio provare a tirarglielo addosso Non fa' Ma non mi ha visto Ma è stupida regà Una chiave Che ce devo fare con sta chiave? Ok Ah ecco a cosa serviva sta chiave, perfetto Allora posso chiudere la porta? No Cos'è? Crow bear Piede di porco Perché non può mancare a sto oggetto nel giochi horror Quindi spaccamo tutto qui Via Andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Dove sono? Un righe Porca vacca che botto che ha fatto Sono confuso Non mi hai visto Non mi hai visto Non mi hai visto Non mi hai visto Ragazzi è cieca come una talpa Non mi hai visto 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 Brava Tu te ne vai di qua Tu te ne vai di qua Io me ne vado dall'altra parte Perché tu sei stupida Io sono intelligente Ragazzi sono perso Sono perso Come un bambino al centro commerciale E vabbè prendimi Mazza c'hai delle gambe che so Dei prosciutti comunque Dovresti metterti a dieta Ragazzi che dire Ci ho provato Non so minimamente come andare avanti E' veramente difficile sto gioco E niente Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie per la visione!